Buongiorno a tutti, io sono Jessica e questo è il mio canale, nel caso non abbiate mai visto un mio video. Faccio questo piccolo video perché volevo dirvi che vendo alcuni dei miei cover dell'iPhone 6, che vanno anche bene per l'iPhone 6S, per il semplice fatto che ne ho troppe e devo un po' smaltirle. Tutte costano meno di 6, non vanno oltre i 6 euro. Per informazioni o per la vendita potete contattarmi su D-Pop, Facebook, email e Instagram. In tutti i prezzi c'è la spedizione prioritaria inclusa che viene 3 euro e la prioritaria è quella che vi arriva entro una settimana, però non è rintracciabile il pacco. Nel caso su vostra richiesta io ve lo spedisco con raccomandata, che costa 2 euro in più però vi arriva sicuro ed è rintracciabile. E niente, vi lascio le cover. Vi ricordo per qualsiasi informazione di vendita, di informazione di prezzo, perché qua non lo dirò, perché non me li ricordo, potete scrivermi su D-Pop, Facebook, Instagram, cioè su Direct e le mail, ok? O se no, se proprio volete qua sotto, però per la vendita sugli altri siti. E che comunque vi lascio all'inizio video, a fine del video e anche nell'info box trovate tutti i miei contatti, tutti i modi per contattarmi, ok? Ciao a tutti, vi lascio al video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah How, how, how should I know? How, 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 how should I know? How, 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 how should I know? How, how, how should I know? How, 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 how should I know? Yeah, 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 yeah Sì!